Questa ha una reazione diversa Lui parte così E loro si abitano proprio a percepire questa... Comunque era interessante perché questo era sopra, si trovava sopra, l'abbiamo spostato noi quindi comunque rimane pregnato di odore anche quella Questa è la trattura su Questa era sopra, la trattura su Ehi, allora... Cos'è che ha pigliato? Dukan! Cerca bene? Bravo! Tu dove puoi? Ok Prat! Ah, bravo bicchietto!